Buongiorno, grazie per l'introduzione e grazie per l'invito. Sono Luca Montanarella, lavoro alla Commissione Europea nel servizio Centro Comune di Ricerca, è un servizio tecnico della Commissione che, per chi non lo sapesse, ha una delle sue sedi principali qui vicino a Ispra, che non è l'acronimo ma è un comune in provincia di Varese, nel quale si trova una delle sedi più importanti della Commissione, la terza dopo il Lussemburgo e Bruxelles, con circa 3.000 funzionari che lavorano su argomenti molto diversi. La mia attività al Centro Comune di Ricerca è da più di 20 anni, quasi 25 anni, legata al suolo. In particolare ci occupiamo di fornire l'appoggio tecnico-scientifico ai colleghi che fanno politiche sul suolo, in particolare i colleghi della Direzione Generale per l'Ambiente, ma anche altre direzioni generali che si occupano di suolo, come la Direzione Generale dell'Agricoltura, politiche strutturali e così via. E dunque parlerò brevemente di quello che facciamo in relazione del consumo di suolo in Europa e anche su scala globale, un po' meno forse delle politiche europee, questo perché è molto più competenza dei miei colleghi che si occupano di politica, ma volentieri poi possiamo discutere anche della mia esperienza avendo partecipato attivamente allo sviluppo delle politiche europee sul suolo negli ultimi anni. Penso si faccia no, non si fa così, con la rotella, perfetto. Quasi sempre, forse può sembrare una discussione semantica, però quasi sempre è necessario spiegare il nostro punto di vista iniziale quando incominciamo a occuparci di suolo alla Commissione. È molto legato, a volte si può pensare a un fattore linguistico. In inglese facciamo una distinzione netta fra land and soil, in italiano e in altre lingue della comunità questo a volte può avere significati diversi. Dunque spendo sempre un paio di parole per spiegare questo a distinzione, perché è fondamentale per comprendere il nostro punto di vista su questo argomento. Quando noi parliamo di suolo alla Commissione parliamo di quella parte verticale che vedete in questa diapositiva, cioè parliamo della dimensione tridimensionale dell'oggetto, questo perché a noi interessava in particolare legiferare su un compartimento che non era ancora coperto dalla nostra leggezione ambientale, avevamo già coperto con la direttiva quadro sulle acque e le acque, avevamo una legislazione sull'aria, una legislazione sulla biodiversità, ma ci mancava il suolo. Ma quando parliamo poi di suolo in un ambito, in paesi diversi, come qua parlando di consumo di suolo, penso che qua parliamo spesso di ciò che potremmo chiamare territorio forse. Tant'è vero che la traduzione inglese di consumo di suolo è land take, non soil take. Dunque spendo sempre un paio di parole su questo perché a volte c'è un po' di confusione. Dunque noi facciamo questo tipo di lavoro qua, andiamo in giro per l'Europa, scaviamo dei profili, guardiamo quello che c'è sotto la superficie e cerchiamo di collegare quello che vediamo lì con quello che vediamo in superficie. Non sto qui adesso a fare una lunga lezione di pedologia o di scienza del suolo, non credo che sia il luogo adatto, ma voglio menzionare questo per mettere in relazione i diversi mondi, di chi si occupa di pianificazione del territorio e di chi invece si occupa di protezione del suolo da una prospettiva un po' diversa. È ovvio che quando poi andiamo a scavare un profilo di suolo in posti diversi, se lo scaviamo in un'area urbana, per esempio qua a Milano, probabilmente troveremo cose e oggetti e faremo osservazioni diverse di quello che vediamo in un suolo agricolo che è stato un po' l'oggetto dell'attività di protezione del suolo tradizionale più di 30 anni fa. Tutto questo era per introdurre quello che è stato il nostro pensiero quando abbiamo proposto nel 2006 una direttiva quadro sul suolo. Non so se siete, probabilmente tutti lo sanno, che nel 2006 la Commissione ha proposto al Parlamento e al Consiglio un pacchetto legislativo che includeva una strategia tematica che fornisce le linee generali che l'Europa vorrebbe seguire nella protezione del suolo e una proposta di direttiva quadro sul suolo che si basava su alcuni concetti che io ancora oggi reputo relativamente innovativi rispetto ad altre parti, altre legislazioni in altre parti del mondo, che era in particolare una legislazione non sulla protezione del suolo tal quale, ma sulla protezione delle funzioni che i suoli forniscono, che sono funzioni che vanno al di là del luogo in cui si trova il suolo, vanno al di là della proprietà, vanno al di là anche dei limiti amministrativi. Questo perché volevamo avere un'argomentazione transnazionale, cioè un'argomentazione per giustificare un'azione a livello comunitario per proteggere delle funzioni che sono di interesse di tutti noi. E ci fu una lunga discussione in Parlamento e al Consiglio su quali sono le funzioni che sono di interesse comunitario. E alla fine siamo arrivati in questa lista che include naturalmente la funzione principe, che è la prima, quella più conosciuta, la funzione agricola, la produzione di alimenti, biomassa, le attività forestali e così via. Ma poi vi sono una serie di altre funzioni che sono un bene comune per tutti noi, per esempio filtrare e tamponare sostanze nocivi per avere poi dell'acqua potabile disponibile per tutti noi, la funzione di filtrazione dei suoli. La funzione di essere un grosso magazzino di biodiversità, non tutti lo sanno, ma spesso vi è più biodiversità nel sottosuolo che sulla superficie. La funzione, ed è una funzione, è quella di essere il luogo fisico dove noi abbiamo tutte le nostre attività. Dunque il consumo di suolo per attività di infrastruttura e di edilizia, del quale parliamo penso principalmente in questa riunione, non sono solo una minaccia ai suoli, ma sono anche una funzione da qualche parte dobbiamo pur vivere. La funzione di fornire delle materie prime, sabbia, argille, ghiaia e così via. La funzione poi che viene tirata fuori e messa come funzione separata di essere un enorme magazzino di carbonio organico. Come saprete, i suoli contengono più carbonio, è il secondo pool a livello globale, dopo gli oceani, di carbonio organico e dunque è una funzione importante per i cambi climatici. Ultima, ma non meno importante, è la funzione di essere il luogo della nostra storia, il luogo delle nostre memorie storiche e geologiche. Questa era una funzione particolarmente importante in Europa, perché gran parte dei nostri siti archeologici sono nei suoli e dunque proteggere questa funzione importante per tutti noi di mantenere la nostra memoria storica era importante menzionarla. Non sto a dilungarmi su cosa successe poi nei successivi anni, dopo il 2006, nella discussione di questa direttiva quadro. Sono sicuro che Damiano la menzionerà di nuovo. Come sapete, dopo una lunga discussione al Consiglio, cinque Paesi membri formarono una minoranza di blocco che impedì l'approvazione della direttiva, malgrado di che fosse stato un voto favorevole al Parlamento. E dunque nel 2014 la Commissione Barroso, come una delle ultime azioni della Commissione, ritirò la proposta di direttiva. Dunque attualmente non vi è una direttiva europea sul suolo in discussione, né vi è intenzione attualmente da parte della Commissione di presentare una nuova direttiva, a meno che non ci sia un segnale politico molto forte. In quel senso attendiamo ulteriori sviluppi dalle elezioni, per esempio, in Germania o in altri Paesi. Dunque brevemente queste funzioni, adesso per entrare un po' più nel soggetto di quello che è la discussione oggi, una delle funzioni più importanti, come ho detto, è la funzione di regolare il ciclo idrogeologico. E dunque è chiaro, e abbiamo pubblicato ampi documenti della Commissione per sensibilizzare sull'importanza di limitare l'impermeabilizzazione delle superfici in Europa, perché questo cambia radicalmente il ciclo idrogeologico e cambia radicalmente la capacità di infiltrazione delle acque, con conseguenze ben note, alluvioni molto più frequenti, che non sto qui a dilungarmi. Dunque queste funzioni sono alla base delle nostre preoccupazioni, e come proteggerle era anche una delle importanti azioni della direttiva Quadro. Per quanto riguarda il consumo di suolo, land take in inglese, in Europa vi sono ampli dati, e ho visto anche una bellissima sintesi recente che troverete nei rapporti che verranno presentati successivamente, anche su scala europea, con alcuni paesi campioni, campione, non campione, che sono dei campioni nell'impermeabilizzazione che vedete in rosso, in particolare dovuta a dei fenomeni speculativi nel campo edilizio negli anni, nei primi anni del 2000, che hanno provocato un imponente aumento della impermeabilizzazione di ampie aree in Spagna, in Irlanda, a Cipro, come potete vedere. Mentre invece naturalmente la copertura in assoluto della superficie nazionale è molto legata al livello di urbanizzazione, dunque chiaramente i paesi del Benelux, uno dei campioni, e Malta, con un'intensità abitativa altissima, sono quelli che vedete nell'altra rappresentazione. Dunque, vi è un consumo di suolo in Europa preoccupante, si stima che impermeabilizziamo circa l'area della città di Berlino ogni anno, non sto a dilungarmi su questi dati che sono ben noti, le tendenze all'inizio sembravano molto preoccupanti, vi sono però alcuni segnali, ma arriverò più tardi sui dati più recenti, che sono incoraggianti, che mostrano che ci sono delle tendenze di miglioramento. Particolarmente, per esempio, in paesi come la Germania, dove la sensibilizzazione al consumo di suolo è stata grandissima, e dove lo stesso governo si è fissato dei target molto ambiziosi di riduzione del consumo giornaliero di suolo per scendere sotto i 30 ettri al giorno in Germania, sono target che sono stati abbastanza raggiunti grazie a un impegno, direi, notevolissimo a livello sia del governo federale tedesco, sia anche a livello dei lender e a livello degli amministratori locali. Quale suolo viene impermeabilizzato? Beh, in larga parte in Europa continuiamo a impermeabilizzare i suoli agricoli e dunque i suoli che sono particolarmente importanti per la nostra sicurezza alimentare, per la produzione agricola e così via. E questo è stato anche uno dei fattori che ultimamente, è uno degli sviluppi più interessanti, che ha sensibilizzato il mondo agricolo a questo problema. Dunque abbiamo in Europa, per esempio, la confederazione di tutte le associazioni di agricoltori, Copacogieca, che è particolarmente interessata ultimamente al problema. E dunque questo cambia noteramente la prospettiva, anche visto che siamo attualmente nella discussione della riforma della politica agricola comune. Dunque speriamo anche lì di introdurre alcuni concetti per proteggere questo bene che è importante per tutti noi, mantenere una base di produzione agricola sufficiente per la nostra sicurezza alimentare. Qualche parola poi sull'aspetto globale. Questo perché la Commissione, già da diversi anni, si è interessata agli aspetti di consumo di suolo al di là dell'Unione Europea. Questo perché siamo tutti interconnessi, vi sono problemi legati al fatto che viviamo e consumiamo prodotti che vengono da suoli che sono non nell'Unione Europea. Questo perché abbiamo fenomeni di migrazione molto importanti, che non sto qui a dilungarmi. E dunque abbiamo un sistema attualmente operativo che si basa sul nostro configurazione europea di satelliti. Come sapete abbiamo un sistema abbastanza ambizioso europeo che si chiama Copernicus, con diversi satelliti dell'Unione Europea, della serie Sentinel, che ci permettono di avere dei dati estremamente aggiornati e dettagliati sulla distribuzione di quello che chiamiamo Global Human Settlement Layer, cioè della distribuzione degli insediamenti urbani e degli insediamenti urbani a sua scala globale. Che ci permette anche di disegregare i dati e vedere che continenti che hanno una popolazione molto notevole, spesso hanno livelli invece di consumo di suolo molto più bassi, con invece alti consumi di suolo per urbanizzazione in paesi che hanno un livello di crescita della popolazione più basso. Ma vi sono anche segnali positivi. Per esempio, grazie a questi dati, possiamo analizzare le grandi aree urbane su scala globale e vedere che vi è un incremento costante negli anni dell'indice di vegetazione all'interno di queste aree urbane. Dunque, una tendenza al greening, al rinverdimento delle grandi aree urbane su scala globale, che è un fenomeno molto interessante da osservare, significa che vi sono tendenze positive a livello di amministrazione delle grandi conglomerati urbani per incrementare il livello di verde all'interno delle città. In Europa questi dati ci indicano che vi sono tendenze positive, come dicevo prima, adesso non ho il tempo di entrare nei dettagli, in particolare quello che è importante per noi che possiamo per la prima volta vedere un'inversione nella tendenza nell'accoppiamento che c'era prima fra la crescita economica e l'impermeabilizzazione, cioè l'aumento del prodotto interno lordo e la copertura di suolo da consumo di suolo, osserviamo che negli ultimi anni vi è un disaccoppiamento fra la crescita del prodotto interno lordo e il consumo di suolo. E questo naturalmente è un segnale molto positivo, significa che si va verso una crescita economica non necessariamente legata a un incremento del consumo di suolo. Dunque, vi sono segnali positivi che sono ampiamente documentati, e adesso non voglio diluncarmi anche per non prendere troppo tempo, l'Atlante della distribuzione degli human settlement, cioè delle aree urbane, lo potete trovare, è una pubblicazione annuale del Centro Comune di Ricerca, ma vi sono nuove pubblicazioni molto interessanti su scala nazionale, non solo italiana, di quale parliamo oggi, ma è stata per esempio molto interessante la presentazione dell'analogo rapporto francese sull'artificazione e sulle misure che il governo francese intende prendere per il consumo di suolo. Forse avete letto l'ultima intervista del nuovo ministro per l'ambiente, Hulot, la settimana scorsa su Le Monde, che ha annunciato che il governo francese si impegnerà per una legge sul consumo di suolo su scala nazionale, che è un ottimo segnale anche per poi avere una nuova iniziativa su scala europea. Dunque vi sono segnali positivi anche in quel senso. Come Commissione posso soltanto dire che noi siamo fermi al nostro impegno della nostra Resource Efficiency Roadmap del 2011, dove ci siamo tutti impegnati a raggiungere un consumo di suolo zero nel 2050, un target forse ambizioso, ma il 2050 a tutti può sembrare un target molto lontano, dunque abbiamo tempo, però il tempo passa, forse è meglio impegnarsi, ma come ho cercato di spiegare, vi sono segnali positivi, dunque cerchiamo di essere ottimisti e di vedere che vi sono degli incrementi di una gestione più sostenibile dei suoli. E con questo concludo. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie mille a Luca Montanarella per questo aggiornamento. Ricordo che la parte proprio di confronto sulle politiche europee contenuta quest'anno al rapporto del CRCS è stata costruita in gran parte con il contributo e con il lavoro comune con il JRC. Sottolineo un aspetto importante che oggi secondo me tornerà in molti interventi e in molte valutazioni. La distinzione tra land e soil, e quindi tra impermeabilizzazione e consumo di suolo, apre delle questioni importanti poi sulle modalità di governo del territorio e quindi sulle ricadute anche sulle politiche di pianificazione urbanistica. Sono aspetti che riguardano le definizioni, ma non sono irrilevanti, anzi sono molto pesanti proprio sulle modalità in cui si può essere efficaci nel contenere il consumo di suolo. Grazie, lascio la parola adesso a Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Lega Ambiente. Va bene, grazie.